Quando entrano nel passaggio di palla, chiamano, sollecitano proprio quasi sempre gli stessi giocatori che sono quelli di maggiore qualità. Sentivo Zoff che urlava di giocare direttamente sulle punte. Sì, sì. Credo che in questo caso abbia ragione. Attenzione alla palla che potrebbe scivolare. E proprio probabilmente per... Attenzione Buffon! Si concede questa leggerezza. Ma nella difficoltà. Deve voler controllare il pallone invece, come avevo detto prima, le cose semplici sono sempre le migliori. Dicevo che era giusto, era giusto quanto diceva Zoff, di lanciare direttamente sulle punte. Non avendo un certo campo di grandissima qualità, ecco, rivediamo l'azione di Buffon. Un po' lungo questo pallonetto, è fortunato che a pressarola sia andato solo.